Può ripartire l'Inter con Nainggolan, Nainggolan all'invito Lautaro Martinez! Rete! Lautaro Martinez! Trentatresimo minuto, primo pallone toccato. Per Lautaro Martinez che prova! E prova il gollo! Arriva il cross, non è male, questo goooor! Goooor! Chi è? È Danilo D'Ambrosio! È Danilo D'Ambrosio! È punizione, è punizione. Gol annullato, gol annullato. L'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, l'autaro, l'autaro, goool, 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 l'autaro, l'autaro! Siltranti di Nainggolan, bravissimo Martinez, stoppa la palla e la mette sotto il crocio al primo palo, bravissimo, l'autaro Martinez, torniamo al gol.